Verso la fine del 1800 nella città di New York City furono commessi una serie di delitti che ancora oggi non trovano una soluzione. Questa vicenda vede come protagonista una bambina di soli nove anni Jane Bilowski allora residente a New York che nel periodo di Natale del 1989 ricevette da suo zio falegname una bambola di porcellana. Entusiasta ed emozionata per il favoloso regalo le diede il nome di Missy e presto se ne affezionò così tanto che divenne la sua migliore amica. Nonostante Jane vivesse in una zona abbastanza popolata da altri bambini e bambine lei preferiva trascurarli in modo tale da trascorrere la maggior parte del suo tempo con il fantoccio regalatole da suo zio. Ma pochi mesi dopo che Jane ricevette quel regalo nella sua zona iniziarono una serie di macabri avvenimenti che scioccarono l'intera New York City. Un suo coetaneo con cui giocava spesso nel parco vicino casa fu trovato strangolato con i lacci delle sue stesse scarpe. Si pensò ad un tragico incidente o alla fatalità di un gioco mal riuscito tra bambini ma le cose peggiorarono quando nelle settimane nei mesi successivi alla prima tragedia capitò la stessa cosa ad altri sette amichetti di Jane tutti deceduti in modo analogo. La maggior parte dei bambini furono trovati strangolati o uccisi con sassi e bastoni. L'idea di un serial killer fu presto abbandonata perché secondo le testimonianze di molti amichetti Jane era la responsabile delle morti sospette. Ben presto le accuse che le vennero rivolte furono confermate poiché dopo diverse indagini si scoprì che Jane Bilowski in qualche modo si trovava sempre in zona oppure veniva vista frequentare le vittime proprio nel giorno in cui accadeva l'omicidio. Per la polizia fu un caso insolito perché le accuse erano gravi e dopo tutto si trattava pur sempre di una bambina. I sospetti però si concretizzarono quando Jane fu accompagnata da sua madre alla centrale per essere interrogata. Fu lei stessa che dopo una serie di domande svelò la verità. La cosa strana era che Jane non si dichiarava responsabile dei delitti bensì sosteneva che l'esecutrice era Missy la sua bambola. L'investigatore che prese in carico l'assurdo caso tentò in ogni modo a convincerla di confessare i crimini ma lei si ostinava a ribadire che non era la diretta responsabile e che Missy glielo avrebbe comunicato. Ad un certo punto dell'interrogatorio Jane prese la bambola fra le sue braccia e guardandola negli occhi la supplicò a farla confessare. Ovviamente senza ricevere alcuna risposta dal fantoccio in porcellana insistette così tanto al punto che si arrabbiò urlando contro la sua bambola. Cattiva! Cattiva! E la gettò dalla finestra. Per l'investigatore si trattava di un caso unico scottante. Il giudice non si affidò alle parole della bambina ma a quelle dei dottori che la visitarono. Secondo questi ultimi la piccola soffriva di attacchi di rabbia improvvisi ed immotivati tali da renderla un pericolo per sé e per gli altri. Alla fine della sentenza il giudice decise che Jane Bilowski necessitava di urgenti cure psichiatriche e per questo la fece rinchiudere nell'istituto psichiatrico di Blue Middle dove fu curata per disturbi aggravati del comportamento. Passavano gli anni e la situazione clinica di Jane era tutto tranne che migliorata. Ogni qualvolta si tentava ad aiutarla lei sosteneva di non essere la responsabile dei delitti. Accusava incessantemente la sua bambola. Jane Bilowski non uscì mai da quell'istituto perché secondo i medici le sue condizioni di salute non miglioravano. Anzi con il passare del tempo i suoi disturbi si aggravarono. Non poche furono le volte in cui Jane ormai adulta aggredì altri pazienti dell'ospedale e il personale medico. Su di lei furono sperimentate le più disparate tecniche dall'elettroshock alla lobotomia. Però nessuna delle cure risultò utile ai fini di migliorare i suoi problemi. Jane Bilowski morì nel 1968 e fino all'ultimo istante della sua vita si ostinò nell'affermare che Missy, la sua bambola, era una creatura del demonio e che lei fosse solo una delle sue vittime. Quello che accadde a Jane Bilowski rimane tutt'oggi un mistero. Oggi la clinica che la ospitò per molti anni, la Blue Middle, non esiste più e i suoi locali sono occupati dalla Columbia University. Molti dei documenti del manicomio sono stati perduti, pertanto di questa storia rimane solo una fotografia di Jane e Missy. È una storia assurda quanto singolare che ancora oggi viene raccontata in tutto il mondo.